Albert è Claudio quando gli fai fare quello che vuole e poi sta crescendo ma guarda che se le crea da sole le possibilità perché il fatto è che molte volte sul primo passaggio è marcato anche spalle girate alla porta ma ha una rapidità nel girarsi e poi accelerare e fare le finte per triplare è una scelta degli scompensi un altro che l'ha fatto è Iagello è questa cosa è il posto giusto messo lì dove deve stare e anche la ragazzina